Che cosa l'assessorato intende fare a livello di interventi su infrastrutture già esistenti? Infrastrutture che hanno un forte traffico pendolare ma che hanno gravissimi problemi, partendo dai passaggi a livello che si bloccano, partendo dal materiale rottabile che è assolutamente inadeguato ai limiti della normativa della sicurezza e partendo dall'annoso problema del sovraffollamento delle carrozze. Addirittura i pendolari la mattina alle 6 viaggiano con le torce perché viaggiano in carrozze buie. I problemi sono cronici da anni e ne cito alcuni, materiale rotabile inadeguato, la questione del raddoppio della linea, almeno un raddoppio per tratti funzionali e poi il piano di soppressione dei passaggi a livello, che ce ne sono su questa linea 70-80, quindi praticamente un passaggio a livello ogni chilometro. Lei dice però che non ci sono fondi, non ci sono risorse e io posso anche crederci, ma allora quello che io chiedo, perché se la regione ha stanziato, pare, 108 milioni di euro per l'autostrada Cremona-Mantova, invece di impiegarli in questa infrastruttura, non ripensa la programmazione e li impiega per l'infrastruttura ferroviaria? Un'ultima cosa sui treni, e questo non lo dico solo per Mantua, lo dico per altre tratte, Bergamo e così via. Quando ci sono gli MD, che tra l'altro non sono di 50 anni fa, di 30, sono del 1982, che sono pieni, c'è qualcosa che dobbiamo ridefinire non forse solo nel sistema ferroviario, ma anche nell'utenza. Gli MD sono i treni con maggior capacità che sono esistiti sul mercato, che oggi tra l'altro non ci sono più, figuriamoci di più. Quando un MD è pieno, noi non abbiamo più niente da dire, non è un torto dell'azienda. Non è un torto dell'azienda, molto probabilmente dobbiamo regolamentarlo, come fanno su Frecerossa, ad esempio vendendo i biglietti. Se questa è la scelta, e dobbiamo condividerela col territorio, che è quello che quando un treno ha più disponibilità non si può più salire sul treno, e quindi prende o il treno prima o il treno dopo, si può fare. Ma tecnicamente non si può fare niente. Il treno è pieno e il treno è della massima capienza, va ripensata l'utenza? Secondo me no, va ripensata la linea.